Si è dimessa e poi è rientrata nel governo, se l'aspettava? No, non me l'aspettavo perché mi sono dimessa in una situazione di criticità che ritenevo insieme a Teresa Bellanova e Ivan Scalvarotto in Tel Aviv, inaccettabile. A larga parte hanno pagato le donne in quel momento, lei e la ministra Bellanova. Non è una bella cosa. Diciamo che però eravamo... Voi eravamo... Non è che abbiamo pagato le donne, è che il mio partito aveva scelto di mettere due donne, solo due donne nel governo, quindi in realtà è stato casuale il fatto che la compagine ministeriale era fatta solo da donne, insomma Italia Viva è un partito che promuove realmente la leadership femminile. Dopodiché sono stata richiamata dal presidente Mattarella e dal presidente Draghi a ricoprire lo stesso ruolo, è chiaro che per me è stato un onore straordinario, io ero tornata a lavorare in università, penso che la politica davvero l'ho sempre interpretata così con quella capacità di essere nitida a servizio, in quel momento non c'era che erano le condizioni per poter mantenere fede, insomma, al nostro impegno e poi sono stata richiamata e quindi sono tornata con lo stesso impegno. Senta, quanto ci manca a proposito di parità?